Anche io mi preoccupo pure, compro in macchina di radomaria, per di pazienza, e non di quello si preoccupa il presidente, non io, però io devo chiedere, e lui mi dice, guarda che qua, dunque, si preoccupano della macchina, si preoccupano della salute, ma secondo voi queste preoccupazioni, che sono lecite, sono tutte subordinate a una sola preoccupazione, questa, cioè, qual è lo stato della mia anima, qual è il mio rapporto con Dio, qual è lo stato del mio cuore, avere a cura questo, questa è la cosa più importante, E' più importante, anche in questa terra, perché la cosa più importante in questa terra, è essere in pace, essere in pace con Dio, avere Dio nel cuore, questa è la cosa più importante, e quando c'è, di questa cosa, preoccupatevi ogni giorno, questa è la vera preoccupazione, questo vuol dire, cercate prima il regno di Dio, e tutto il resto vi sarà avuto in sovrappiù, Per cui, per cui, tutte le altre preoccupazioni, tutte le altre preoccupazioni, devono essere subordinate a questa, cioè, dobbiamo essere saggi, cioè, gestire la nostra vita, in un modo da non sperperarla, da non buttarla via, da non metterla nelle mani del nemico, dell'avversario, cioè, tutelare la nostra dignità dei figli di Dio, la nostra libertà dei figli di Dio, tutelare il nostro rapporto con Dio, il nostro diritto per il paradiso, Ma siamo così stolti da buttare via la nostra vita, questo bene prezioso, facendo il male, distruggendola, buttandola nel nulla, nel nulla, buttandola nella perdizione, ma questo lo fanno la maggior parte degli uomini, ma guarda che una stoltezza, ma una volta non era mica così, sapete? Una volta non era così, io mi ricordo mia nonna, mia nonna, per carità, era una cosa incredibile, lei interessava solamente una cosa, la salvezza interna della sua anima, dico, appena sono diventato prete, vede subito a confessarsi da me, Dico, mamma, dico, nonna, ma sei già santa, cosa viene a fare? Dico, cioè una volta era diversa la cosa, adesso non c'è più questa attenzione, per noi stessi, per noi stessi, cioè abbiamo a avere cura di noi stessi, della nostra anima, del tesoro, della fede, ma come si fa ad essere così stupidi, così stolti, a buttare via la fede? Cioè, io vi dico, dicemi voi, se Sadra non ride, coi giovani d'oggi, crescono, perdono la preghiera, la fede, la grazia, perdono Dio, perdono la salute, il senso della vita, perdono tutto, dico che sono liberi, Sadra, dico, bella, Sadra è felicissimo, un bottino enorme, ma noi abbiamo buttato via noi stessi, quindi, dobbiamo avere prima di tutto questa grande cura, questa grande cura di essere in grazia di Dio, di avere questo bene che è Dio, cioè, se uno fosse a Monte Rosso, dico, dove i poveretti hanno perso tutto, è una cosa incredibile, però, se uno non avesse perso, ha perso tutto, ma non ha perso la fede e ha Dio, va sicuro che è infinitamente più ricco di uno che ha perso Dio, ma che ha conservato tutte le cose materiali, perché questo? Perché tutte le cose materiali si devono lasciare, tutto passa, tutto crolla, ma chi ha Dio, lui è proprietà di Dio, tu sei di Dio, e sei, hai diritto ai beni eterni, perché sei il suo figlio. Allora, questa è la prima cura che dobbiamo avere, è proprio questa, cioè, conservare la grazia santificante, conservare Dio nel nostro cuore, e quindi conservare la pace, conservare la gioia, conservare la luce, c'è poi tutto quello che esce da questo, quando uno ha Dio nel cuore, c'è la gioia, c'è la felicità, c'è il senso della vita, c'è la creatività, c'è la libertà, uno non ha paura, né della morte, né degli uomini, ha paura di niente. Per manca che vada, sto, per manca che vada, va bene, per manca che vada, va bene, cioè, uno che ha Dio, chi ha Dio ha tutto, ma pensate voi, queste sono le cose, le metà del cristianesimo, ma le vive, le sono poche le persone che le vivono. È una cosa, è veramente una povertà, incredibile. Allora, adesso vorrei sottolineare due tratti di santità, che Gesù ci ha particolarmente sottolineato, e cioè, la misericordia e il perdono. Perché Gesù dice, siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro nei cieli, siate misericordiosi, come è misericordiosi il Padre vostro nei cieli, come Dio vi ha perdonato, così perdonate. Cioè, vorrei sottolineare due tratti di santità, di vita santa, che sono quelli che hanno fatto sì che il cristianesimo, e sono la vera grande rivoluzione cristiana, e che noi dobbiamo incanare la nostra vita perché sono troppo importanti. E cioè, la misericordia e il perdono. Intanto, cioè, Gesù ci dice, imitate il Padre vostro celeste che è misericordioso. Fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, sui buoni e sui cattivi. Cioè, veramente Dio è misericordioso, cioè, Dio come, vedete in che stato siamo? Cioè, siamo, il mondo è veramente, dopo che il Redentore è venuto qui su questa terra, dopo che ha dato la sua vita per noi, eccetera, c'è nel mondo il tentativo di eliminare Dio. Giusto? Guardate. Quando si leggono i messaggi della Madonna, ragazzi miei, va sicuro che c'è una sapienza, un'analisi della realtà che ha dell'incredibile. Allora, vediamo, eh. Nel messaggio del 2 ottobre, a Miriana Madonna dice, Noi cercate di avere famiglie e società senza Dio. Cioè, la Madonna dice, state cercando di spazzare, buttare fuori Dio dal mondo, dalla famiglia e dalla società. Via. Un mondo senza Dio. Volete costruire un mondo nuovo senza Dio? Questa è quanto gli uomini stanno facendo qui in Occidente da almeno tre secoli. Cioè, lo sfratto a Gesù Cristo, come diceva Giovanni Paolo II. Questa è la realtà dalla quale viviamo. Su questa realtà il Padre Celeste, guarda, cosa dovrebbe fare secondo voi? Lanciare i fulmini? Di fronte a questa realtà il Padre Celeste, o è, ma guarda che, di fronte a questa realtà il Padre Celeste è paziente. E ha inviato qui la Madonna, in questa straordinaria epifania dell'apparizione marea dei tempi moderni, da Ludwig Bach in poi, per chiamarci alla confessione istancabilmente. Voi pensate a questi trent'anni quanta pazienza ha avuto la Madonna. è una cosa incredibile. E guarda che lei, facendo i bilanci, ha detto sì, molti mi hanno accolto, ma un numero, un numero enorme neanche mi ha preso in considerazione. Cioè, io sono veramente... Cioè, vedo... Cioè, capisco che noi cristiani per vivere la santità, cioè per vivere l'amore di Dio nei nostri cuori, dobbiamo avere questo occhio, questo occhio. La mattina una signora mi diceva, ha telefonato in radio, diceva, ah, ma io, sa, vedo questo, vedo l'altro, vedo qua, vedo là, e mi arrabbio, mi arrabbio. Capito? Uno si arrabbia. Attenzione, non dobbiamo avere uno sguardo ostile su questo mondo. Cioè, noi dobbiamo avere, verso questo mondo, uno sguardo misericordioso. Dobbiamo guardare gli uomini come vittime del demonio che li ha ingannati, come dei prigionieri che lui tortura, come dice Caterina da Siena, sono i martiri di Satana, ingannati, torturati. con il rischio di perdizione eterna. Dobbiamo avere quest'occhio. Proprio lo voglio raccomandare, perché questo è distintivo del cristianesimo. Cioè, noi dobbiamo, in un mondo che pure ci perseguita, e che pure ci disprezza. Capito? Noi, la nostra reazione, non deve essere quella della rabbia, ma deve essere quella di chi ha avuto la grazia della liberazione, la grazia della luce, la grazia di conoscere l'amore di Dio. Allora, avendo noi avuto questa grazia, noi dobbiamo guardare questo mondo con l'occhio misericordioso del Padre Celeste. O se vogliamo dire meglio, con quella misericordia con cui Dio ci ha guardato, ha guardato noi uomini che l'abbiamo messo in croce, ci ha guardato mai con disprezzo, ci ha guardato con misericordia. E anche quando ha visto che noi stavamo accumulando i castigli, non di Dio, i castigli che noi ci siamo infritti, Gesù si è messo a piangere e ha detto, Gerusalemme, Gerusalemme, io ho voluto raccogliare i tuoi figli, come fai una chioggia con i tuoi pulcini, ma tu non hai voluto. E sono morti tutti, o quasi tutti, quelli che hanno, ci sono asseranati in Gerusalemme, ma chi li ha uccisi? I romani li hanno uccisi, ma perché? Perché si sono ribellati. Cioè, è questo, cioè, Dio è la storia che si ripete, perché poi la Sacra Scrittura ci dà la possibilità di leggere la storia anche del futuro. La medesima cosa, sta facendo la Madonna adesso, come una chiossa, sta raccolando i suoi pulcini, anche i più lontani, per salvarli, e per evitare che, per evitare che l'omicida, il menzogno fin dal principio, distrugga questa terra, perché questo è il suo obiettivo. Allora noi dobbiamo avere, siamo, la nostra santità, deve avere tratti particolari nel nostro tempo. Uno di questi tratti particolari è la grande misericordia con cui dobbiamo guardare questo mondo. E avere, guardate che quando dico questo mondo, dico anche i nostri familiari. Perché se noi facciamo, facciamo l'esempio, cioè facciamo una statistica delle nostre famiglie, delle nostre parentene, io, sono il primo a farla con la mia, che fa i conti, su dieci, uno o due sono dalla parte di Dio. Gli altri, po', non si sa bene dove sono. Facciamo i conti? Dico, nelle nostre famiglie, è già questo, è una realtà viva e vera che possiamo guardare. Allora, cosa dobbiamo fare? Noi cosa facciamo? La guerra? Li malediciamo? Li dispreziamo? Li mandiamo all'inferno? No, dobbiamo fare come il medico guarda con amore i malati, come Dio guarda con misericordia, come la Madonna guarda con misericordia, noi guardare tutti con misericordia, attenzione, tutte sono anime che crei, per le quali Cristo ha versato il suo sangue. Noi dobbiamo avere per queste anime pietà, compassione, dice la Madonna, siate portatori della pace, appossi dell'amore, testimoni della fede, mani gioiosamente tese. noi dobbiamo manifestare questa misericordia divina alla gente che molte volte è la gente di casa nostra, che magari mai ci sopporta perché siamo cristiani.